Allora, un altro trofeo alzato, questa volta quello più atteso, più cercato, probabilmente quello che il pubblico aspettava di più. No, sì, lo che il pubblico aspettava, ma di non vincere mai nulla, di vincere dei trofei, penso che è qualcosa di incredibile. Insomma, anche oggi una partita ben giocata, si vedeva dall'inizio che non ce ne poteva essere per nessuno stasera. L'importante è che abbiamo vinto, non so come abbiamo giocato, sinceramente, adesso non mi interessa, quindi l'importante è che abbiamo portato a casa il risultato e siamo molto felici. Adesso si festeggia, però bisogna poi ricominciare ad allenarsi perché c'è un'altra due giorni che si preannuncia bellissimo. Ci penseremo da dopo domani, lasciatemi festeggiare almeno questo.